Avete o volete investire in obbligazioni a lungo termine, nutrendo l'ambizione di realizzare profitti elevati nel momento in cui le banche centrali inizieranno a ridurre i tassi di interesse? È davvero così scontato che ciò avvenga nel momento in cui la politica monetaria diventerà meno restrittiva? A tal proposito dobbiamo dire che molti stanno trascurando alcuni dettagli, un paio di piccole ma piccole cosette. Nel video di oggi ci immergeremo in un'analisi macroeconomica più approfondita, o forse dovrei dire più finanziaria. Ciò ci permetterà di eseguire alcune simulazioni e costruirci delle aspettative distinguendo tra ciò che appare plausibile e ciò che potrebbe essere meno realistico. Esploreremo inoltre il motivo per cui un eccessivo ottimismo forse non è così giustificato. Ricordo come sempre che non sono il vostro consulente finanziario, pertanto è imprescindibile che ciascuno di voi prenda decisioni di investimento in maniera autonoma e ponderata. Inoltre sulla mia fronte non c'è scritto mago donascimento, quindi le indagini che facciamo e le eventuali relazioni statistiche che riscontriamo non ci daranno mai la certezza di sapere ciò che nel futuro accadrà e che quindi le cose si ripeteranno in modo uguale. Al massimo ci permettono di escludere alcuni eventi estremi o di assegnargli una probabilità bassa. Per iniziare analizzeremo perché generalmente quando le banche centrali iniziano a ridurre i tassi di interesse si assiste spesso anche ad una diminuzione dei rendimenti obbligazionari. Perché considerando le domande che a volte ricevo spesso questo meccanismo non è chiaro. Quindi ora cerchiamo di capire, ovviamente faremo delle semplificazioni. Il tasso di interesse stabilito da una banca centrale è comunemente considerato come il tasso base. Esso funge da punto di riferimento per i tassi di interesse con cui le banche commerciali si prestano denaro reciprocamente. Questo tasso ha un impatto significativo su tutta l'economia, influenzando i tassi di interesse applicati su un'ampia gamma di prodotti finanziari. Quando la banca centrale decide di ridurre i tassi di interesse abbassa di fatto il costo del denaro per le banche commerciali. Le banche possono quindi accedere in questo modo a fondi ad un costo inferiore sia prendendo in prestito dalla banca centrale sia attraverso prestiti interbancari. Quest'ultima strada è la via decisamente più comune. Di conseguenza le banche commerciali, grazie alla riduzione dei costi sui fondi presi in prestito, sono in grado ora di offrire finanziamenti a condizioni più vantaggiose ai loro clienti, senza che ciò impatti negativamente sui loro margini di profitto. È vero che i ricavi si riducono, ma allo stesso modo si abbassano anche i costi, permettendo così di mantenere inalterati i margini di guadagno sugli interessi. Questo si traduce in tassi di interesse più bassi sui prestiti concessi a consumatori e imprese, come per esempio i mutui per le case, i prestiti per l'acquisto di auto o le linee di credito aziendali. Una riduzione del genere stimola gli investimenti e i consumi, contribuendo così a rafforzare l'economia. Ma quali sono le ripercussioni sul rendimento delle obbligazioni? Prendiamo in considerazione una società privata che debba finanziarsi. Questa ha due opzioni, richiedere un prestito direttamente ad una banca o emettere obbligazioni. Queste due strade devono essere quasi interscambiabili, perché l'obiettivo principale è ottenere nuova liquidità, indipendentemente dalla fonte. Si comprende quindi che se le banche offrono prestiti ad un tasso più basso, diciamo al 3%, non sarebbe logico per un'impresa emettere obbligazioni che comportino un costo del 6% o che rendano gli investitori il 6% a seconda dei punti di vista. Di conseguenza anche i rendimenti obbligazionari si adegueranno e diminuiranno. Se gli investitori per acquistare i bond richiedessero per esempio un rendimento del 6%, le imprese si rivolgerebbero direttamente alle banche che offrono prestiti a condizioni più favorevoli. Alla fine il meccanismo di domanda e offerta porterebbe ad una situazione di equilibrio, dove le due opzioni diventano paragonabili, sebbene non identiche al 100%. La diminuzione dei rendimenti obbligazionari influisce non solo sui bond di nuova emissione, ma anche su quelli già presenti sui mercati finanziari. Infatti è necessario che strumenti simili offrano rendimenti comparabili. Come è noto, la riduzione dei rendimenti si concretizza con un aumento generalizzato dei prezzi di acquisto dei bond. In generale le obbligazioni che tendono a beneficiare maggiormente dalla riduzione dei rendimenti sono le obbligazioni con scadenze più lunghe. Molti, conoscendo questi meccanismi negli ultimi mesi o ultimo anno, si sono precipitati ad acquistare obbligazioni con scadenze lunghe, nella speranza di trarre appunto vantaggio dal previsto taglio dei tassi di interesse nel 2024. Ma questi investitori hanno agito saggiamente? Se la decisione è stata presa in modo equilibrato e coerente con gli obiettivi finanziari personali e il proprio profilo di rischio, non si può affermare che la scelta sia stata errata. Tuttavia, se la decisione è stata guidata solamente dalla speranza di assistere ad un forte calo dei rendimenti obbligazionali nel prossimo futuro, forse si tratta di un ottimismo eccessivo, anche se ciò non esclude che possa comunque verificarsi. Se ormai avete effettuato i vostri acquisti e non volete sentire neanche un lieve senso di pentimento, anche perché il futuro non è scritto, chiudete il video e dormite serenamente. Se invece volete continuare con la visione, è importante un disclaimer. Il seguente video contiene immagini che alcuni spettatori potrebbero trovare disturbanti o sconvolgenti. La visione è consigliata solamente ad un pubblico maturo. Investitore razionale smette di dire stupidate con queste tecniche da quattro soldi? Quanto siete permalosi! Allora, partiamo subito con il primo grafico. Qui possiamo osservare, rappresentato con una linea blu, l'andamento dell'inflazione e con una linea arancione i tasti fissati dalla Fed. Dato che l'obiettivo principale delle banche centrali è mantenere l'inflazione su livelli accettabili, è ragionevole aspettarsi che i tassi di interesse aumentino quando l'inflazione cresce e viceversa. Infatti, quando l'inflazione scende, non c'è motivo di alzare i tassi di interesse ostacolando l'economia e magari innescando una recessione, per il puro piacere dei banchieri. Osservando attentamente il grafico, si nota una certa correlazione tra queste due grandezze, visibile anche ad occhio nudo, sebbene non sia perfetta. Per non lasciare nulla al caso, ho calcolato la correlazione tra i due indicatori e risulta pari a 0,7 su un massimo di 1. Questo indica una correlazione mediamente forte tra le più significative che si possono trovare in questo tipo di analisi macroeconomiche e finanziarie. Perché vi sto parlando di questo? Perché mi piace parlare di cose a caso e confondervi? Sì, questo sempre, non ringraziatemi troppo, ma non solo. Non distraetevi che poi alla fine tutto avrà più senso. Forse, spero. Prima di passare al prossimo grafico, ho calcolato la differenza media storica tra queste due grandezze e, basandomi sui livelli attuali dell'inflazione, ho stimato che i tassi della Fed oggi dovrebbero essere circa il 4,75% rispetto al 5,25% attuale. Quindi, con questa analisi semplificata, possiamo aspettarci dalla Fed solo un paio di tagli se l'inflazione rimarrà sui livelli attuali. Nella seconda parte del video faremo alcune estime ipotizzando una continuazione della riduzione dell'inflazione. Ma prima rendiamo l'analisi un po' più sofisticata, chiara e graficamente comprensibile. Osservando il grafico che rappresenta la relazione tra i tassi di interesse della Fed e l'inflazione, possiamo notare una dispersione dei punti tale da suggerire una correlazione positiva tra i tassi Fed e l'inflazione. Quindi, generalmente, all'aumentare dell'inflazione, anche i tassi di interesse tendono a crescere. Questo è coerente con la politica monetaria tipica delle banche centrali, che, come dicevamo prima, alzano i tassi per raffreddare l'economia e controllare l'inflazione quando questa diventa troppo elevata. La linea tratteggiata rappresenta una tendenza approssimativa che illustra come, in media, i tassi di interesse si modificano in risposta ai cambiamenti nel livello dell'inflazione. Sebbene la correlazione non sia perfetta, come è normale in dati economici complessi, il pattern indicato dalla linea di tendenza è chiaro. Quando l'inflazione aumenta, la Fed solitamente interviene con un incremento dei tassi per prevenire surriscaldamenti dell'economia, che potrebbero portare a bolle speculative e a distorsioni del mercato. Il grafico mostra anche la presenza di dati che si allontanano dalla linea di tendenza, il che può riflettere periodi atipici o shock esterni che hanno causato deviazioni dalle politiche monetarie standard. Ad esempio, periodi di crisi finanziaria o di shock sui mercati delle materie prime possono temporaneamente alterare la relazione tra inflazione e tassi di interesse. Sulla base di questa analisi possiamo ipotizzare che se l'inflazione attuale è relativamente alta, la Fed potrebbe essere propensa a mantenere i tassi di interesse elevati per contrastarla. Se l'inflazione dovesse diminuire, ci potremmo aspettare che la Fed abbassi i tassi per stimolare la crescita economica. Tuttavia è importante ricordare che la politica monetaria non agisce in un vuoto e viene influenzata da numerosi altri fattori economici e finanziari. Ad esempio, la Fed potrebbe scegliere di mantenere i tassi di interesse più alti o più bassi per un periodo prolungato al fine di prevenire future ascese dell'inflazione o per altri motivi di politica economica, come il rafforzamento della valuta o la gestione del debito pubblico. Ad esempio, questo fenomeno si è verificato nel 2021, quando nonostante un tasso di inflazione che aveva oltrepassato il 4%, la Fed decise di mantenere i tassi di interesse vicino allo 0%. Osservando la distribuzione dei punti nel grafico risulta evidente la straordinarietà del fenomeno. Infatti non si era mai verificata una situazione in cui, di fronte ad un'inflazione così elevata, i tassi di interesse fossero rimasti così contenuti. Questa politica, decisamente fuori dall'ordinario, ha senza dubbio contribuito ad alimentare ulteriormente l'inflazione. Comunque, analizzando questo grafico, emerge con chiarezza la correlazione di lungo periodo tra inflazione e tasse di interesse della Fed. Come in precedenza, ho effettuato una stima grazie alla linea di regressione tracciata. Il livello dei tassi della Fed, in considerazione dell'attuale tasso di inflazione, dovrebbe aggirarsi intorno al 5,3%, che corrisponde più o meno ai livelli attuali. La precedente stima suggeriva che i tassi della Fed potrebbero subire una lieve diminuzione, ma questa nuova analisi ci indica che i livelli attuali potrebbero essere già allineati con l'inflazione corrente. Ricordate però che queste sono soltanto stime e nessuno può prevedere con certezza le future mosse della Fed. Nel 2021 vi avevo espresso quanto fosse inusuale il ritardo della Banca Centrale Americana nell'adeguare i tassi di interesse agli allora livelli di inflazione. Secondo questo modellino, la Fed avrebbe dovuto iniziare ad incrementare i tassi ben prima. Eppure, contrariamente a quanto previsto, la Fed ha atteso molto più di quanto ci si sarebbe aspettati da un'analisi storico-statistica. Pertanto, non si può escludere a priori che il presidente della Fed possa decidere di procedere a tagli più sostanziali in futuro. Andiamo avanti. Fino ad ora abbiamo ipotizzato che l'inflazione resti costante, ma mentre sto registrando già mi sembra di leggere alcuni commenti. Ma investitore razionale, io ho deciso di speculare in obbligazioni a lunghissima scadenza perché considerando il trend attuale dell'inflazione questa dovrebbe continuare a ridursi e quindi la stima non dovrebbe prendere in considerazione i livelli inflattivi attuali, ma più bassi perché tra qualche mese il trend dovrebbe essere in diminuzione. È possibile che l'inflazione continua a ridursi, ma per ora negli ultimi sei mesi è rimasta abbastanza costante, come possiamo vedere da questo grafico. Mentre l'inflazione core negli ultimi mesi sta continuando a ridursi, anche se ha rallentato in modo evidente il suo processo di normalizzazione. Però nessuno ci vieta di effettuare tutte le simulazioni che vogliamo. Quindi ipotizziamo che l'inflazione nei prossimi mesi subirà una drastica riduzione che si dimezzi rispetto ai livelli attuali. In questo caso i tassi Fed potrebbero arrivare tra il 2,5% e il 3%. Investitore razionale, hai visto? Questo significa che quindi in caso di forte contrazione dell'inflazione le obbligazioni a lunga scadenza sono destinate ad apprezzarsi nei prossimi mesi e anni anche in modo molto forte. Perché la riduzione dell'inflazione farà scendere i tassi Fed e contestualmente i rendimenti obbligazionari, facendone incrementare il valore. Ma le cose stanno proprio così? È tutto così scontato, semplice, lineare, soldi facili? Sui mercati nulla è facile e scontato. Il nostro obiettivo deve essere investire per il medio-lungo periodo e avere sempre un portafoglio coerente con i nostri obiettivi finanziari. Poi qualche aggiustamento va bene, ma stravolgere il portafoglio per speculare, soprattutto nel breve periodo, è altra storia e tra poco vedremo anche perché. Ma andiamo con un altro grafico che vi piacciono così tanto che ve li sognate pure la notte. Questo nuovo grafico mette in relazione i tassi di interesse della Fed con i rendimenti dei bond governativi a 10 anni. In modo analogo a prima possiamo vedere una correlazione positiva evidenziata dalla linea di tendenza e dal coefficiente di determinazione che in questo caso è dello 0,83. Questo valore alto indica che una grande parte della variazione nei rendimenti dei bond 10 anni può essere spiegata dalle variazioni nei tassi di interesse della Fed. Quando la Fed aumenta i tassi di interesse tendenzialmente anche i rendimenti dei bond tendono ad aumentare. Questo perché i tassi più elevati rendono il debito più costoso e di conseguenza i nuovi bond devono offrire rendimenti più alti per attrarre gli investitori. Inversamente quando la Fed taglia i tassi i rendimenti dei bond tendono a diminuire dato che il costo del debito si riduce e i bond esistenti con tassi più alti diventano più attraenti facendo salire il loro prezzo e di conseguenza riducendone il rendimento. La correlazione tra queste due grandezze è addirittura di 0,9 su un massimo di 1. Ora continuiamo il giochetto. Continuiamo con le nostre simulazioni. Prima avevamo detto che se l'inflazione dovesse dimezzarsi i tassi fissati dalla Fed potrebbero arrivare anche intorno al 2,5%. Indovinate ora che faremo? Questo valore sarà la nostra variabile indipendente. Estimeremo considerando la fortissima relazione statistica che abbiamo riscontrato quanto mediamente potrebbero rendere le obbligazioni in questo scenario. Le obbligazioni a 10 anni americane dovrebbero rendere rullo di tamburi il 4,1%. Quanto stanno rendendo in questo momento le obbligazioni americane? Proprio il 4,1%. Prima che qualche genietto dica investitore razionale giusto giusto sei approdato allo stesso valore. Non mi freghi. Quanta pazienza che ci vuole. Ovviamente ho fatto diverse simulazioni prima del video e qui ho ipotizzato il dimezzamento dell'inflazione proprio per approdare al rendimento che oggi offrono le obbligazioni. Per avere un'idea di cosa oggi i mercati almeno in parte stanno scontando. Non è un caso che tra infiniti risultati possibili siamo arrivati proprio al rendimento attuale. Ok investitore razionale. In parole semplici cosa significa questo? Implica che se le solide correlazioni statistiche che abbiamo osservato si confermano anche nel contesto attuale, i rendimenti dei bond decennali stanno anticipando per il futuro prossimo un marcato calo dell'inflazione rispetto ai livelli odierni. Di conseguenza per realizzare significative plusvalenze sui bond, come conseguenza dell'andamento dei tassi di interesse, sarebbe necessario che l'inflazione si riduca a meno della metà. E dobbiamo riconoscere che non è un'ipotesi così semplice da concretizzarsi poiché implicherebbe un tasso di inflazione decisamente inferiore al 2%, senza considerare l'eventualità di un riacutizzarsi del fenomeno inflattivo. Mi risparmio le simulazioni di questo scenario meno positivo. Prima di chiudere e salutarci desidero mostrarvi un ultimo grafico, ma permettetemi un breve monito. Pur condividendo statistiche che talvolte possono essere incoraggianti e altre volte meno, questo non dovrebbe costituire un freno all'investimento. È essenziale proseguire con gli investimenti, a condizione di avere delle riserve di liquidità per le spese correnti e impreviste. Lasciare i soldi inattivi in banca è inopportuno. Possiamo adottare un approccio più cauto, limitando operazioni eccessivamente speculative, ma non possiamo attendere indefinitivamente l'occasione perfetta, poiché nessuno è in grado di predire con certezza il futuro. Preciso questo punto per evitare possibili malintesi. Benissimo. Questo grafico mette a confronto direttamente l'inflazione con i rendimenti dei titoli obbligazionari. Anche in questo caso osserviamo una correlazione decisamente significativa. Con l'incremento dell'inflazione tendenzialmente si assiste ad un aumento dei rendimenti obbligazionali, con la conseguente diminuzione dei prezzi. Continuando con l'ipotesi di un'inflazione che si dimezzi nei mesi a venire, i rendimenti obbligazionali, seguendo le previsioni statistiche, dovrebbero posizionarsi intorno al 3,9% rispetto al 4,1% attuale. Ciò ci conduce prevedibilmente a un risultato analogo a quello precedentemente ottenuto. Pertanto, dal mio modesto punto di vista, sembra che il mercato obbligazionario stia già incorporando nelle proprie valutazioni un'imminente sostanziale riduzione dell'inflazione e dei tassi Fed. Questo spiega perché di fronte agli ultimi dati sull'inflazione che si sono rivelati leggermente deludenti, abbiamo assistito a marcati cali del mercato obbligazionario. Vi è una scommessa latente su un deciso calo dell'inflazione e quindi i dati così così non sono soddisfacenti per il mercato. Inoltre, ciò implica anche che le reazioni del mercato obbligazionario ai futuri tagli dei tassi di interesse potrebbero non essere particolarmente forti, dato che le attuali valutazioni stanno già scontando uno scenario ottimistico. Prima che qualcuno chieda, la ricerca condivisa è sugli Stati Uniti, ma in realtà considerazioni simili valgono anche per il mercato europeo. Direi che questo film intricato può finire qui. Negli ultimi tempi avete inviato, come di consueto, numerose email e commenti. Purtroppo, a causa di un impegno intensivo, forse anche eccessivo e di un periodo di salute non ottimale, ho potuto rispondere soltanto ad una ristretta cerchia di voi. Vi chiedo di avere pazienza. Sappiate che faccio del mio meglio e anche se non mi è possibile replicare a ciascuno, leggo attentamente tutti i vostri messaggi. Pertanto, se ci sono argomenti specifici che desiderate vengono trattati più approfonditamente o format che vorreste fossero continuati, vi invito sempre a segnalarlo nei commenti, perché sulla base dei like che lasciate, io decido che tipo di contenuti proporvi. Quindi, se il video di oggi è stato di vostro gradimento e siete interessati a vedere contenuti simili o questo aggiornamento anche in futuro, l'unico modo per farmelo sapere è attraverso i commenti. Se pensate che valga la pena condividere questo video, fatelo tutti. Per oggi è davvero tutto. Ciao! Grazie!